Il nuovo modo di fare il caffè espresso è un modo semplice, il caffè è come la musica, o davo più basso o davo più alto, quindi la densità del caffè è diversa. Ho progettato una valvola di variazioni di volume che studiata proprio ad hoc per questo servizio e mi ha permesso di raggiungere le pressioni che mi servono per l'utilizzo della macchina. Grazie per la visione!